Andrea Bosetti, giovane imprenditore, nasce a Brescia nel 1987. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Calini, si dedica agli studi di economia. Si occupa delle pubbliche relazioni di alcuni dei più importanti locali della movida notturna bresciana e gli viene naturale, poiché è un grande amante delle serate in discoteca con gli amici. È fondatore e partner di varie start-up, tra cui una che produce cover per telefoni con più di 100 negozi in Europa, fondata nel 2013 con altri 4 soci. Insomma, l'unico momento in cui si è fermato è stato quando si è infortunato giocando a calcio. Chissà, magari, se non ci fosse stato quell'imprevisto, lo avremmo visto concorrere con Cristiano Ronaldo e Messi per il pallone d'oro. Tiene molti corsi e consulenze nel campo dell'impresa digitale ed è molto attivo sui social. Sul suo profilo Instagram, che conta più di 53.000 followers, pubblica moltissimi teneri scatti, insieme alla fidanzata Sara e la figlia Emily, nata il 23 maggio del 2017. Inoltre, è molto goloso, a tal punto da chiamare i suoi cani Kinder e Nutella. Gli piace andare al mare per prendere il sole, anche se torna spesso con delle scottature. Si diverte a girare il mondo con la famiglia, catturando i paesaggi e condividendoli. Tra le mete preferite c'è Parigi. Ma cosa ci farà in ginocchio davanti alla Tour Eiffel?